Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video, attraverso il quale vi informeremo sulle aree più importanti interessate da piogge molto intense e forti temporali in Italia domani, giovedì 13 luglio 2023, ma prima di entrare nei dettagli, non dimentica prima di sostenerci mettendo mi piace a questo video e iscrivendoti al canale, e grazie, se domani, giovedì, sono previste forti piogge e temporali, con l'energia delle regioni settentrionali d'Italia, questi temporali si attiveranno in periodi di stabilità e a volte all'improvviso e comincerà con le prime ore del mattino, ma l'attività dei temporali sarà più intensa nel periodo serale, e i temporali si sposteranno su più zone da nord, con pericolo di caduta di grandine e rischio di formazioni torrentizie improvvise, e come tutti sapete i temporali sono molto difficili da prevedere, e le regioni che li colpiranno fortemente, ma secondo i dati preliminari a nostra disposizione, saranno interessate tutte le regioni settentrionali, ma a periodi intermittenti di stabilità, e via via e le regioni interessate sono Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, e ogni altra importante novità che comunicheremo più tardi, e alla fine, che tu sia in buona salute.